Nella giornata di ieri sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Ragusa una coppia di milanesi, un uomo di 54 anni con precedenti penali per truffa, furto, falso ed insolvenza fraudolenta e una donna di 39 per il reato di truffe in concorso e danni di un ragusano per non aver fatto pervenire l'autovettura posta in vendita su un noto sito internet per la quale era stato pagato anticipatamente l'importo pattuito. In particolare l'attività di Polizia Giudiziaria prende l'avvio lo scorso luglio quando le a cittadino ragusano ha presentato querela evidenziando che aveva preso contatti prima via internet e poi telefonicamente con un milanese per l'acquisto di un arreno al prezzo di 850 euro, comprese le spese per le formalità del passaggio di proprietà. Dopo aver pattuito il prezzo il milanese ha richiesto un anticipo di 450 euro da pagare tramite una ricarica post pay e la rimanente somma di 400 euro da versare con altra ricarica nel momento in cui egli avrebbe spedito l'auto tramite un autotrasportatore. Il live venditore per convincere ragusano all'invio del denaro attraverso whatsapp ha inviato copia dei suoi documenti e della vettura sostenendo di aver già consegnato il tutto ad un agenzio di disbrigo pratiche. Ciò induceva il querelante ad effettuare la seconda ricarica. Il milanese ha poi suggerito quindi alla ragusano di telefonare ad un autotrasportatore di sua conoscenza per concordare il trasporto dell'auto dopo avergli fornito il cellulare. Quest'ultima stavolta ha richiesto una ricarica su altra carta post pay di 150 euro per il trasporto dell'auto da Milano a Ragusa. Tuttavia al momento della concordata consegna il truffatore milanese accampando la scusa che l'auto era guasta non l'ha consegnata all'autotrasportatore. Il querelante dopo aver tentato ancora in vano di contattare telefonicamente il venditore ha presentato regolare denuncia. I successivi accertamenti svolti dalla polizia stradale di Ragusa presso il gestore del sito internet, presso le poste e presso i gestori di telefonia hanno consentito di accertare che i documenti utilizzati per l'attivazione della carta e per attivare una simcard utilizzata per i contatti erano intestati alla compagna del truffatore. E dopo aver effettuato ulteriori verifiche sull'effettiva residenza sui documenti dei due è emerso che l'uomo era stato già denunciato per reati di furto, truffa ed insolvenza fraudolenta e che per non farsi rintracciare aveva più volte cambiato residenza. I due sono stati quindi denunciati per il reato di truffa in concorso. Grazie a tutti.